bella raga finisce l'andata con la juve 1 a 1 mi sembra un risultato giusto ma soprattutto faccio questo video per commentare l'indegna l'indegna espulsione di lukaku perché è una cosa dove non si può soprescedere ed è per questo che faccio il video perché uno viene insultato gli danno del negro tutto il tempo prima che tira il rigore e poi si permette di fare così dopo che ha fatto col suo rigore e l'arbitro massa lo butta fuori dai merita commento sta roba si merita commento ed è una vergogna è una vergogna è una vergogna è uno schifo un'espulsione del genere è uno schifo poi nel referto si inventeranno qualcosa si dirà che magari avrà insultato un giocatore dalla juve una cosa tira l'alta che tanto quadrado c'è il culo che gli andava in fiamme perché pensava di essere l'eroe della serata anche oggi no pensa di fare l'eroe della serata invece c'è il culo che gli brucia ma manco non ci fosse ancora il ritorno da giocare per un 1 a 1 sembrava che gli era gli era un macello hanno fatto un macello gli juventini hanno tirato su una barra onda noi ci siamo stati alla barra onda giustamente e alla fine l'arbitro che ha buttato fuori lukaku e andanovic tanto quadrado l'ha espulso con serenità perché sapeva che era diffidato quindi un già era ammonito avrebbe saltato il prossimo turno lo stesso ma va tutto bene così ragazzi va tutto bene così sulla partita cosa vuoi dire era il colmo perdere anche sta partita per carità in zaghi è un mollusco senza palle noi non siamo capaci a buttare la palla dentro neanche con le mani a porta libera però sinceramente di perdere anche questa dopo le occasioni di Brozvi l'occasione di Mkhitaryan l'occasione di Lukaku mi sembrava veramente il colmo dei colmi però ormai sono abituato a tutto tant'è vero che dopo la partita con la Fiorentina ho deciso di non fare il video perché altrimenti penso mi avrebbero arrestato arrestato letteralmente perché ancora vedere che si ostina a far giocare 60 minuti a Correa la farfallina io non aggiungo altro comunque ragazzi non ho voglia di incazzarmi perché poi ce ne avremo da parlare dopo non vi preoccupate che dopo ce ne avremo tanto a parlare ma ci tenevo a fare questo video per ribadire nuovamente lo schifo lo schifo dell'espulsione di Lukaku l'espulsione di Lukaku è uno schifo e una vergogna e massa si deve vergognare di aver buttato fuori Lukaku si deve vergognare gli ha semplicemente detto di stare muti a gente che lo insultava sfondo razziale punto per il resto ragazzi tanti saluti che ancora c'è il ritorno testa bassa e ci sarà ci sarà da lottare ancora che questo 1-1 ancora non vuol dire niente ma speriamo che sia un segnale per andare a fare finalmente una partita decente a Salerno e smetterla di perdere in continuazione perché non so se lo sanno ma noi saremo anche l'Inter così tanto per dire bella raga per me c'è solo l'Inter e l'arbitro si deve vergognare forza Lukaku Grazie a tutti